Buonasera Buonasera a lei, come va? Tutto bene? Eh, come si, come so Beh, me, me lo va Come si, come so Il tuo piacere è che lei sta sempre bene Qua, il veleno è più veleno, beh Purtroppo, non volendo, ma... Non mangio mai Ci sarò anch'io, eh Buonasera Eh, collega No, scollega, collega Allora, vogliamo salutare il nostro amico di Foggia? Si fa per dire Il nostro amico donato inglese, lo salutiamo? Ma si fa per dire Perché? Si fa per dire Allora, Lello, ma tu hai piacere di fare i nostri video Di raccontare come sta evolvendo questa storia Hai piacere, lo fai di tua volontà No, ma a me con i pupà mi piace giocare Oh, ti piace Lo posso giocare il mio pupazzo E il mio pupazzo lo posso giocare Allora, detto questo Ti abbiamo mai costretto a dire o fare delle cose noi? Per me? Io l'ho detto sempre Mamma mia vita! E ora non mi vedi più Ah! Ok, quindi adesso va così Fra un po' non sappiamo come va Giusto? Per ora tu sei contento di questa cosa Sei! E soprattutto come ci ritieni a me? Ah! Ah! Regia è abbastanza bene Eh! Sì! Insomma, entrambi ci siamo andati a condare E questo caffè di chicane E lo so E lo so E lo so Fammi dire due cose a Donato Eh! Anzi, lo dovrei chiamare maestro Perché è maestro Maestro Allora Tino Io solitamente mi faccio scivolare addosso la qualunque Tu lo sai, no? A volte mi dici come fai Beato te Qualcuno mi diceva Le tue insinuazioni scivolano sul piano più inclinato Della mia più totale indifferenza Che significa me ne fotto Solo che ci sono dei momenti della vita di ognuno di noi In cui qualunque parola detta in un modo anziché in un altro Provoca delle situazioni particolari Dei risentimenti, degli stati d'animo Che possono in qualche maniera turbare anche chi solitamente si fa scivolare addosso tutto quanto Beh, noi sul nostro canale, sui nostri social in generale Lasciamo che ognuno possa dire ciò che vuole Tant'è che qualcuno ce l'ha anche detto Ma come fate a lasciare dei commenti tremendi sui vostri social che vi rovinano l'immagine? Pazienza, non possiamo essere simpatici a tutti, ci mancherebbe altro, no? Ma vedi che mi ha mangiato di una cosa Un mercoledì dovevi andare E tu? Ma tu sai che proprio per queste cose personali Ieri non è stato possibile andare da Ange No, quello era un altro giorno, non era mercoledì Mercoledì è impossibile perché non abbiamo lavorato Perché ci sono delle faccende personali che incidono anche parecchio poi sul lavoro Anche Lello si fa scivolare addosso tutto Perché non crediate che Lello In qualche maniera non risente molte volte delle cose che voi scrivete E abbiamo lasciato Tu te la ridi ma lo so che non è così E abbiamo lasciato dunque anche molti di quei commenti Perché vogliamo far capire come noi stessi siamo a sostegno della critica Della critica quando la critica è fatta in un certo modo Donato Inglese è andato ben oltre la critica La continenza e la contingenza Provo adesso a insegnarti due parole fondamentali nella vita di un giornalista Perché il diritto di cronaca e di critica è fondamentale Purché siano continenti e contingenti Perché altrimenti ne rispondi Così come ci è capitato di risponderne anche noi nelle sedi opportune E in questo caso chiameremo anche te a farlo Perché il nostro avvocato sta scrivendo la querela Rispetto al video che ci è stato sottoposto Anche perché ci perdonerai se non ti seguiamo Ma abbiamo altri interessi rispetto a seguire i tuoi video Sta preparando la querela e quindi non appena sarà pronta L'andremo a depositare magari proprio a Manfredonia Alla prima stazione dei Carabinieri Perché è giusto che uno capisca che il confronto civile Anche con toni particolarmente accesi È fondamentale nella vita democratica Ma non può mai trascendere in violenza Che essa sia fisica o verbale Non ci va giù, certo, quando la gente crede Che ci possa fare qualsiasi cosa sotto il naso E lì il mattone parte a tutti quanti Però non ci siamo mai permessi di criticare Nel tuo caso men che meno il tuo Non solo lavoro ma anche il tuo modo di porti Che a noi non piace affatto Donato Si è andato molto oltre Si è andato oltre anche generando la frustrazione Oltre che tua Di tante persone che hanno poi commentato sotto Hai messo il tarlo sul fatto che Noi siamo degli speculatori Che approfittiamo di Lello Di questa storia per fare le view Perché ci servono i soldi Cash Bravo Lello E i pingoni Che sarebbero i goggioni dalle nostre parti Quelli che credono a qualunque cosa Ci sostengono Addirittura ci ringraziano per quello che facciamo Noi non lo facciamo per avere i ringraziamenti Ci interessa davvero la vita non solo di Lello Ma la vita di tanta gente che altrimenti Resterebbe ai margini E se questo ci porta delle visualizzazioni E quindi dei soldi Delle entrate Ci fa piacere perché molti di questi soldi Vengono reinvestiti Qualora tu non lo sapessi Per contribuire ad alleggerire le vite Di queste persone in sofferenza Abbiamo fatto tante spese Diamo un sacco di elemosina Facciamo un sacco di beneficenza Che non diciamo Perché c'è quella che diciamo Con la speranza sempre di creare emulazione Ma c'è tanta Che non raccontiamo E non racconteremo nei dettagli Perché quella è una cosa intima Che va fatta per i fatti propri E i soldi generati da Youtube Adesso spiego anche come funziona Ma non a te caro Donato Lo spiego a chi critica In un certo modo E che ha necessità di avere delle spiegazioni Non servono Non bastano Non sono sufficienti Per sostenere l'attività Le spese Le tasse Perché paghiamo gli stipendi Abbiamo un DURC Quindi dobbiamo Mantenere una certa regola E pagare tutto quello Che ci Lo Stato ci impone di pagare Per continuare ad andare avanti Con la nostra attività Bene Youtube funziona in questa maniera Esiste un Fattore Che si chiama RPM Che è Il pagamento Che Youtube fa Al suo partner In questo caso Quinto Potere Che viene pagato E viene calcolato In migliaia di visualizzazioni Ovvero C'è questo RPM Che vale X euro Per ogni mille visualizzazioni E questo RPM E' suscettibile Delle campagne Per esempio Che le multinazionali Fanno su Youtube Quindi Di quanto Youtube Riesca a vendere La pubblicità Agli inserzionisti Quello che rimane Al partner E' meno della metà Di quanto l'inserzionista Paga Youtube E questa variazione Dipende anche dai periodi Per esempio Vi faccio L'ultimo esempio Quello di Natale A Natale L'RPM vale Un po' di più Ma provate a chiedere Agli Youtuber Quanto vale A gennaio Febbraio Marzo Vale poco Però Dovrebbe saperlo Il maestro Vale poco Ma noi Nonostante questo Continuiamo A seguire le storie Di chiunque Anche quando queste Non hanno Il numero di visualizzazioni Tale che ci possa consentire Di arricchirci Capito Donato? Cioè Funzione in questa maniera Ma Donato inglese chi? Tino Donato inglese Si Tu dici Bo Il maestro Ma Donato inglese Quello che A settembre del 2020 Voleva sputtanare Perdonami Ma è proprio quello Il caso di dirlo Voleva sputtanare Una coppia Che lo aveva raggirato Coppia con la quale Voleva fare del sesso Lo aveva truffato Voleva che noi andassimo A Manfredonia Per sollevare la questione Lui truffato Mi ha chiamato Mi ha chiamato Ci siamo sentiti Mi ha messaggiato Ma come sei un giornalista? E non sono più da assalto Poi arriveremo anche a questo Scusi No no Lei è libero Anche perché Ha chiamato in causa Anche lei È il mentecatto di Lello Perché Lello A suo dire Non è capace Di stabilire se vuole o no Fare un video O fare in modo che Ma io posso fare tutti i video che voglio E il problema di cash A me non ce ne sta Lo so Lo so E però in tanti non lo capiscono Amico mio Quindi Mio caro Tino In questo caso Donato Inglese è anche quello Che si rivolge ai suoi interlocutori In questo modo Sentiti Senti Non c'è i soldi a vita cacciata Figli di Guarda Sei messo male tu Controlla tua madre Che è Hai capito? Io sto bene Controlla tua madre Che è Stai messo male tu Stai messo male tu Figlio di Hai capito? Tua madre è Stai messo male tu Figlio di Stai messo male tu E c'è la madre Stai zitto Qual è italiano? Stai zitto È italiano Stai zitto Figlio di Ti quel telefono da male Chiama a mammina Fatti togliere il telefono Per piacere Che non puoi Non puoi usarlo il telefono Sì Hai capito? Sì Stai zitto Queste Devono essere insultate Perché Non valgono un C***o Beh Cosa dovrebbe fregarmene Di una persona così Che critica Anzi Critica Che offende Te Me E Lello In generale No Ma adesso Basta Perché siamo stufi Di dedicarci Anime e corpo Nelle storie Che ci Vengono sottoposte Anche perché Sono gli utenti Che ci segnalano Le situazioni A volte Gli stessi utenti Protagonisti Di quelle storie Tino Esattamente come potrebbe essere lui Gli stessi amministratori di sostegno Come ha fatto lui Gli stessi amministratori di sostegno In alcuni casi Ci chiedono aiuto Perché Sono in difficoltà Con lo Stato Sono in difficoltà E quindi dicono Antonio Ci dai una mano a sollevare questo Questo problema O le persone stesse Ci chiedono un aiuto Per migliorare la propria vita A volte ce la facciamo A volte non ce la facciamo A volte l'aiuto è minimo A volte è molto più grande Di quello che si potesse immaginare Perché magari Dall'altro lato C'è qualcuno più sensibile Che sia accorto di questa vita Di questa storia Tino Dici anche qualcosa su di te Dice che non solo Che tu Puoi stare accanto a me Perché tra l'altro Con la terza media Che è il tuo titolo di studio Lui ne è convinto Lo dice apertamente in pubblico Tu sei Che cosa hai Che cosa hai tu Diploma di ragioniere 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 Accettuali come ragioniere Accetti lui come ragioniere Ti ricordi come si fa di calcolo Tino Beh insomma Però la contabilità Potresti portare la contabilità Ragioniere Sì Un po' fantozzi Ma ragioniere Ecco E così funziona Ebbene Non si può dire certe cose Quando non si ha contezza Di quello che si dice E soprattutto Quando si vuole essere Un personaggio pubblico Uno youtuber Che ha accumulato Ben 15.000 Diciamo 15.000 Iscritti Al proprio canale In quasi 11 anni Di attività Beh Bisogna quantomeno Allacciare la cintura Di sicurezza Quando si fanno i video E nonostante Tino Abbia un diploma di ragioniere Diploma di ragioniere Nonostante Non la terza media Quando facciamo i video Indossiamo sempre La cintura No Li fa giusti Indossiamo sempre La cintura di sicurezza E facciamo in modo di essere in due Perché uno riprende L'altro parla Sempre con la cintura Di sicurezza Allacciata E non mentre si guida E non mentre si guida Che esempio Dai E vabbè Ognuno Fa quello che Maestro E' padrone Di fare quello che vuole Lo dice Lello Noi non Non diciamo nulla Collega Lo sguardo sbarazzino Sdrammatizza Questo momento Un po' catartico E torniamo A rispondere Seppure Qualcuno ci ha detto Ci ha consigliato Non lo fare Ma con garbo Si può sempre dire E fare qualsiasi cosa Anzi Consigliamo Al maestro inglese Di invitarci Perché avrei Molto piacere Di intervistarlo E civilmente Di confrontarci Su quello che non gli piace Di questa vicenda Ma facciamo scambio di coppia Facciamo prima A Bari? L'ha detto Facciamo scambio di coppia Tu sei tremendo Sei tremendo Te lo dico io Che sei tremendo Ha sentito La storia di Manfredonia Hai capito? Hai capito Scambio di coppia Quinto potere Caro maestro È un attestato Regolarmente iscritto Al registro Della stampa Del tribunale di Bari E siamo orgogliosi Di questo progetto editoriale Perché non siamo appiattiti Felice Cangelli Perché non siamo appiattiti Se tu vai su QuintoPotere.it Puoi trovare tantissime notizie Solo su Quinto Potere Non ce ne sono da nessun'altra parte Del genere Quelle che ti piacciono E quelle che non ti piacciono Scritta in un modo Che ti aggrada E anche altre volte In un modo che non aggrada Perché ognuno di noi Ha il proprio stile Per raccontare le storie E ti dico Quinto Potere è stata Una scelta di vita Fatta da tutti noi Nessuno di noi È stato cacciato Dal quotidiano italiano Né da altri giornali Né da altri giornali Quindi Prima di dire certe cose Che possono in qualche maniera Rovinare l'immagine Non tanto mia Perché io ormai La mia immagine È talmente pubblica Che non ho bisogno Di ulteriori pubblicità Negative o positive Ma dell'azienda Perché noi siamo Attaccati a questo progetto Con le unghie Con i denti Quindi non lasceremo mai Che nessuno Possa minare la serietà Di quello che facciamo Anche quando giochiamo Anche quando lo facciamo Con ironia Come spesso succede Per i video di Lello Alle spalle invece C'è uno studio E c'è una credibilità Importantissima Senza della quale Non andremo da nessuna parte Non avremmo fatto 60.000 iscritti Non avremmo fatto Oltre 20 milioni Di visualizzazioni Ma qua fa caldo Qua fa freddo Lo so Lello Perché anche questo Noi veniamo Anche con il freddo Con la pioggia Con il sol Con la neve Senza problemi Anche senza pupazzo Perché questo deve essere fondamentale E qui torniamo E chiudiamo Carotino Con la storia Dei video di Lello Dal 7 dicembre Giorno in cui 2021 21 Il giorno in cui Abbiamo iniziato La nostra avventura Quindi calcolate Che ci abbiamo messo Un po' per carburare Però noi calcoliamo Dal 7 dicembre Ad oggi Sono passati 409 giorni In 409 giorni Abbiamo realizzato Più di 1800 video Di questi 1800 video Alcuni Sono Di Lello E Angela Di tutti e due Non soltanto di Lello Per l'esattezza 172 Ci siamo fatti due calcoli Ogni 11 video Che pubblichiamo Ce n'è uno Che riguarda la vicenda Di Lello e Angela E al giorno Eh? Ogni? Ogni 11 video Ce n'è uno Che è quello Relativo alla storia Di Lello e Angela Sì ma io A quanta vita caccia Voglio scacciare Prima o poi ti cacciare Prima o poi ti caccieremo O succederà altro Cacciare Bene Noi pubblichiamo 4,5 video al giorno Che è una cifra importante E non lo facciamo Pensando alla visualizzazione Certo Quando arriva Fa piacere Perché questo Perché questo Ci consente di andare avanti Ma non basta Serve tanto altro Serve la pubblicità organica Serve una presenza costante sul territorio Serve ingegnarsi In produzioni che siano diverse Da quelle che si possono trovare altrove Questo facciamo Con quinto potere Quindi i numeri Neanche quelli Sono dalla parte del contestatore Che offende Volgarmente Senza Citare Argomenti di confronto Rispetto al fatto che non ti piaccia Fino a quando andrà avanti La storia di Lello e Angela La storia di Lello e Angela Andrà avanti Con le telecamere Fino a quando Con il pupazzo Con il pupazzo Fino a quando Vorremo Vorrà Lello Fino a quando potremo Non lo sappiamo Ma Mai Come in questo caso Dimmi Tino Senza pregare la morte a nessuno eh Assolutamente Visto che ha pregato la morte di Lello Anche Si Quando schiatta lui è sempre tardi Lo diciamo per gli amici di Foggia Che non comprendono l'antifona spesso È meglio Ok Ok Quindi Andrà avanti Fino a quando Ma senta me Fai un sorriso Bravo Fai un sorriso Fai un sorriso Adesso Manda Fai un sorriso Diciamo Ma non Diciamo Vabbè Poliglotta Come sempre sei Lo faremo Almeno fino a quando Non riusciremo E stiamo in trattativa Perché questo avvenga Non riusciremo a terminare i lavori di ristrutturazione di casa di Lello e Angela Perché Ecco Quella che vuoi subito E noi per questo lo facciamo Fino a quando non potremo consegnare all'amministratore di sostegno le chiavi della casa ristrutturata I soldi non ne abbiamo mai chiesti per aiutare Lello e Angela Nessuno di voi ha partecipato alla costruzione I più o meno 30 mila euro che sono stati investiti finora sono stati frutto di altra entrata Donazioni delle aziende che per ringraziare abbiamo citato perché altrimenti E qualcuno di quelli che all'inizio aveva annunciato il grande slancio benefico Alla fine si è tirato anche indietro Quindi abbiamo dovuto rimpiazzare questa grossa perdita E adesso dovremo trovare, stiamo trovando, lo abbiamo quasi trovato Un imprenditore con un cuore diverso Che finirà casa di Lello e Angela Ma buono, buono, buona notizia Grazie mille Ti sto dando anche questa notizia Grazie, grazie E quindi come ha detto il nostro amico Grazie signore Grazie mille di mille milioni Sempre Come ha un giubbotto a Loris Quindi facciamo un sorriso E comunque Aspetta, finiamo questo discorso Grazie del poco che mi hai dato Della felpa e del giubbotto Finiamo questo discorso Facciamo un bel sorriso al nostro amico donato Ma Al maestro Al maestro E gli diciamo vivi sereno Ma non mi vale più di tanto per la carriera Perdi la carriera La faccia La faccia La faccia L'ha già persa No, la faccia E noi andiamo avanti E lui rimane sempre là Questo L'ha detto Lello Questo Vi dovevamo Il tuo collega E mi ha firmato l'attestato Antonio Me l'hai firmato E ce l'ho Nella madre Bella Con la tua ciappetta E non può fare più o no O noi siamo colleghi Per dirvi Per dirti Mio caro Che La fiducia delle persone Si acquisisce Non soltanto facendo quei video Ma con la costanza nei rapporti E quindi Non so Fino a quando Racconteremo la storia di Lello e Angela Ma poi Posso decidere tranquillamente Senza alcuna costruzione Di vedere fare quello che mi piace di più Quindi tu Puoi tranquillamente evitare Di continuare a guardare l'evoluzione Della storia di Lello e Angela E quando Sarà ultimata Perché finirà Ti assicuro che finirà La storia di Lello e Angela Capirai che esperimento Perché di questo anche si tratta Sociale è stato fatto Rispetto a qualcuno Che è stato trovato Come reietto della società Ed è diventato invece poi oggetto Di selfie Di Di popolarità Di come la vita ti può cambiare E basta poco Perché la vita possa cambiare Non sappiamo se Lello Starà in struttura Quanto tempo ancora Quanto tempo ancora Lello Starà in struttura Qui o da un'altra parte A casa sua in un'altra casa Non si sa Chi lo sa Tu puoi sapere cosa ti succede Da oggi fino a domani Saremmo tutti degli indovini Quando sarà a casa Sarà a gonfierire A gonfierire E mangerò come dirò io Beh A morire A morire Beh io ti auguro Di non mangiare fino a morire No no Perché oggi ho mangiato Ho mangiato Da re Oggi ho mangiato Alla mezza Alla mezza E già quello è importante E quindi Mio caro Aspettati di essere convocato E nelle sedi opportune Invece discuteremo Diversamente Rispetto a quello Che ci stiamo Dicendo Oggi pomeriggio Per ora E solo per ora È quasi tutto Se volete Vedete Se non volete Non vedete Noi continuiamo a fare Quello che abbiamo sempre fatto Con Lello E con chiunque altro Che distino? Eh Quando il fatto è vero Quando il fatto è vero